Figlia, non sempre sei pronta al mio invito che ripetutamente ti vado facendo. Ricorda che ti sto affidando una missione particolare a cui devi essere fedele. Devi essere lieta di offrirmi questo piccolo sacrificio a cui ho legato molte grazie. La presente lezione sarà molto cara al tuo cuore. Ti parlerò della bellezza della grazia. Ti ho dato questo dono bellissimo il giorno del tuo battesimo e con esso ti ho resa figlia adottiva di Dio. Perciò mia sorella. Io sono l'unico figlio naturale di Dio. Per questo dono, sei capace di guadagnare il paradiso, aggiungendo i tuoi pochi meriti ai miei meriti infiniti. Dirti quanto vale la grazia è molto semplice. Essa vale il mio sangue speso tutto fino all'ultima goccia per comprarla e perdonartela. Dopo che Adamo ed Eva perdettero la grazia per sé e per tutti i loro discendenti. Nessuna penitenza. Nessuna preghiera. Nessun sacrificio sarebbe valso ad ottenere la riabilitazione dell'uomo. La distanza che lo separa da Dio è troppo grande. L'offesa fatta era quasi infinita e solo Dio stesso avrebbe potuto ripararla. Sarebbe bastata una sola goccia del mio sangue a riparare i peccati di mille mondi. Ma io vogli che la redenzione fosse sovrabbondante. Per alcuni motivi molto semplici. Non avrei voluto che l'uomo dubitasse del suo valore. Volevo far vedere quanto è brutto il peccato e quanto è pregevole la grazia. Per mezzo di essa l'anima assume una bellezza divina ed una vita nuova la riveste. La vita di Dio che dimora in lei. Per essa tutto viene trasformato e le azioni più indifferenti assumono un valore particolare. Direi un valore infinito. Come fossero compiute da me stesso, vivente in voi. È come un vestito la grazia, che riveste l'anima e non è uguale per tutti. Come il vestito si adatta alla statura della persona. Così questo vestito soprannaturale è più o meno grande a seconda della statura spirituale e morale di un'anima. Dal grado di grazia che tu possiederai al momento della morte, dipenderà il grado di gloria in cielo. Questo dono, che gratuitamente hai ricevuto, lo devi costantemente custodire come un prezioso tesoro. È il più prezioso poiché ti rende amico di Dio. Senza di esso, diventando suo nemico, crolla tutto quel bene spirituale. Quell'edificio soprannaturale che esiste in te ed entra la desolazione e la morte. La grazia è un dono che puoi continuamente aumentare col desiderio, con la pratica delle virtù cristiane e con atti d'amore. Col ricevere con devozione i sacramenti. Non sai fino a qual grado di grazia io desidero che tu giunga, per cui devi costantemente tendere ad aumentarla. La grazia è il dono più bello che tu possiedi. Procura di non perderlo. Sì perciò attenta e vigilante. Prega Dio e la mia mamma che ti aiutino a custodirla. Riprendi terreno, appena ti accorgi di essere caduta. Mediante quella vacro salutare che è la confessione e poi prosegui costantemente il cammino. Un giorno passato senza la grazia è un giorno perduto, poiché il valore della tua vita dipende da essa.